Qualcuno mi dice che stai mettendo insieme un gruppo di amici di Varese, questo è importante, per provare a garantire un futuro a questa società. Il problema è il solito, cioè io ti posso anche dare una mano in quanto tifoso, in quanto imprenditore, ma come farò ad avvicinarsi quando hai una voragine economica dietro da colmare? Non posso dire altro se non che io ci tengo a questo momento portare avanti il settore giovanile, io ci tengo i giovani, i giovani che purtroppo anche loro non possono giocare, io mi sono già interessato a Varesello eccetera eccetera perché lì non si può fare niente, le utenze vanno avanti perché c'è un contratto, io ho trovato le persone che sono disposti a far aprire Varesello, portare tanti ragazzi e pagare loro le rette, più di così non posso fare perché altrimenti ho i piedi purtroppo, non posso fare altro. Sono due o tre imprenditori ottimi, proprio di Varese, perché la mia idea è portare avanti i cittadini di Varese e il pubblico di Varese, basta con le stranieri, non si può più andare avanti in questo modo. Io dico soltanto che c'è una buona accordata e lo dico qui davanti a tutti, io sono un po' responsabile di questa accordata ma ci tengo a sottolineare che sarà una buona accordata e pensiamo subito immediatamente ai giovani. Sì però Maccio, scusa, questa accordata è disposta a mettere fuori i 6 milioni che servono. No, il Varese deve fallire, non c'è altra strada. Ripartire la terza categoria? Non si può partire, può partire e comparare anche la seconda, la terza, la promozione, ci sono tante città che non ci sono, che non ce la fanno e noi possiamo ripagarle.